La seconda edizione delle voci dei libri all'Archiginasio sono i sabati che qualche decennio fa furono fortemente evoluti dal sindaco Zangheri. L'anno scorso hanno tenuto un grande riscontro di pubblico, un grande apprezzamento e quindi abbiamo pensato di riproporli. Quest'anno è un palinsesto molto importante, ci sono sei appuntamenti di grande valore per non fare torto a qualcuno, direi li cito tutti, il filosofo Remo Bodei, poi si varra la nave di Teseo con Elisabetta Sgarbi, sarà anche un'occasione per ricordare Umberto Eco che aveva deciso di saltare su questa importante nave, poi Benedetta Craveri, poi ancora un personaggio molto conosciuto qui a Bologna che è Gianni Soffri, un docente di storia, molto appassionato della vita di Gandhi e questa volta ci porterà in una riflessione su Gandhi tra Oriente e Occidente. Poi abbiamo un appuntamento molto particolare, il 9 aprile ospitiamo Roberto Vecchioni che tutti conosciamo più in veste di cantautore ma qui è lo scrittore, il poeta, una riflessione molto intima, sono lettere ai figli sulla felicità. Chiude Serena Vitale, una storica della letteratura russa che ci ricorderà un vecchio segreto della vita di un poeta russo.